Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di scoprire le novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sarebbero davvero apprezzati. Grazie mille. Nella tarda mattinata di sabato 31 agosto, si è verificato un grave incidente stradale sull'autostrada A23, nel tratto tra Udine e Tarvisio. Il traffico era particolarmente intenso a causa del rientro di molti turisti austriaci e tedeschi, e proprio questa congestione ha contribuito a rendere più drammatico l'incidente. L'incidente ha lasciato ferite ben 26 persone. Tra queste, tre sono in condizioni critiche. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il tamponamento abbia coinvolto almeno sette veicoli, molti dei quali appartenenti a turisti stranieri, rendendo i loro mezzi inutilizzabili. Gli automobilisti sono stati costretti a uscire a Udine Nord, e il traffico è stato deviato su una sola corsia. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, insieme alla polizia stradale e al personale di autostrade per l'Italia per gestire l'emergenza e ripristinare la viabilità.